Perché è nato Infoestetica Mag? Era il 2018, già lavoravo nella creazione di contenuti multimediali originali con i signori medici e mi aggiravo fra gli stand di uno dei congressi di medicina estetica più importanti in Italia. Cercando informazioni mi sono accorto di un grande gap fra medici e pazienti. Quale? Quello della comunicazione. Perché non c'era spazio per i pazienti? Il problema era che i pazienti avevano ed hanno oggi ancora di più bisogno di vedere il medico prima di incontrarlo e recarsi allo studio per una visita. Sì, perché la lista di figurine sui portali non era più sufficiente allora e tantomeno adesso. Ecco perché è nato Infoestetica Mag, la prima rivista italiana che si occupa di divulgazione in materia di chirurgia e medicina estetica. E a seguire è nato anche l'Infoestetica Day, il primo evento italiano che parla al pubblico in materia di chirurgia e medicina estetica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.